Quando l'ho vista stesa, lì sotto ho pensato, non posso stare qui e lasciarla morire. Ha tutta la vita da vivere. Non l'ha fatto perché era malato, né perché conosceva la ragazza. Ormai deve ammetterlo. Sì, ma non è un eroe, è un idiota. Il motivo per cui quel titolo non dice Idiota travolto da un treno è la fortuna. Il prossimo titolo sarà Idiota non riceve diagnosi perché i medici non parlano del dolore alle orecchie. Il dolore all'orecchio è compatibile con la mia teoria. Jack ha un'infezione che si è estesa all'amastoria. Lo confermeremo tra una settimana quando le tue culture segrete saranno pronte. Sono nei guai. Mi arrabbio quando sprecate il mio tempo. Non mi interessa del vostro. Avvertimi quando saranno negativi e ti sbeffeggerò. Ha un'idea migliore. No, quindi scelgo quella che mi pare. Neurinoma dell'acustico? Tumore nell'orecchio può essere. E se preme sui centri respiratori nel cervello spiega i polmoni. E i polmoni spiegano il cuore. Teste dei potenziali evocati uditivi. Questo conta come il mio tempo. Ci pensate voi?